4 giri ragazzi, da ora 4 giri 3 giri abbiamo la 993 Greca che va in doppia con la tua collega per proseguire questa prima marchi questa persona frazione che è a 2 metri definiti vi ricordo che la gara è compresente quindi non conto le soluzioni, non conto le soluzioni abbiamo sempre due atleti, abbiamo l'atleta staspetto in sotto quindi Giorgia che prende il primo posto ma in realtà le due atleti sono vicinissime e andiamo verso la curva per andare a vedere chi si presenterà l'ultimo giri al test in realtà le due atleti sono vicinissime, vicinissime e andiamo scontro alla pari per l'ultimo giro per l'altro un nuovo giro Camara da adesso si va da adesso in contro Giorgia è vicinissima a chiudere la prima posizione in questo giro il primo giro è vicinissime ha staccato la sua campagna e ha scontro a casa per le loro parole per tutta la gara Giorgia stiamo vicino a chiudere il primo posto del testo in 2-14 bene 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 il primo posto del testo ancora le atleti che stanno chiedendo la loro gara infatti che hanno avvicinato ancora la seconda battaglia semplicemente avevano messo a prendere sempre così andiamo a andare bella balda per i due campanelli che vanno a chiudere anche la loro gara brava ragazzi forza forza ragazzi forza ragazzi ultimi metri sono che proIVA fuori bellissimi marzo sassi bruIRE chiud że puoi il Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!